Di nuovo l'incubo di ogni Natale. Hai già pensato a cosa regalare? Un consiglio. Non il solito profumo. Perché se lo fai di nuovo ti aspettano le solite facce infastidite, di odio, facce da non ci posso credere. Se vuoi regalare un profumo, fallo bene. Trova la sua fragranza ideale in equivalenza.